Assessore, l'importanza di eventi come questo, Worlds of Wine, per comunicare e per pubblicizzare la nostra regione? Assolutamente sì, è una giornata importante, quella di oggi ma soprattutto anche di ieri e l'altro ieri, dove c'è stata la possibilità di far conoscere a giornalisti nazionali e internazionali la nostra meravigliosa terra d'Abruzzo. Il Monte Pulciano, il vino abruzzese in generale, è l'ambasciatore della nostra regione e quindi quale occasione migliore è far conoscere la nostra regione partendo dal nostro territorio, partendo da quelle che sono una pecoria assoluta, che credo poche realtà al mondo possano raccontare. In 50 minuti abbiamo il mare e la montagna, abbiamo una regione fatta di parchi e riserve naturali e quindi i nostri prodotti che sono frutto di questa terra incontaminata, meravigliosa, devono essere raccontati. Questo è un elemento importante di promozione vera perché torneranno nelle loro attività e potranno raccontare il nostro territorio in maniera puntuale e precisa. Quale vino proporrebbe a chi si trova per la prima volta in Abruzzo? Non faccio discriminazione, insomma. Un buon Monte Pulciano si fa sempre non una bella figura ma un'ottima figura assolutamente. Valentino Di Campli, presidente Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo, Quinta edizione del premio giornalistico World of Wine che ha portato in Abruzzo diversi esperti del settore, diversi giornalisti del settore. Sì, un premio giornalistico che è stato pensato qualche anno fa proprio per far parlare di Abruzzo, di Abruzzo enologico, vitivinicolo ma non solo. Sono un po' di anni che si parla e si continua a parlare anche in modo sorprendente di Abruzzo. In questi giorni infatti abbiamo avuto prima di questa giornata di oggi del premio anche un incoming con oltre 60 giornalisti provenienti da tutto il mondo che sono arrivati qui in Abruzzo anche per la prima volta e hanno scoperto una regione che a detta loro non immaginavano. Per cui questo lavoro è un lavoro importante perché poi la voce dei giornalisti ci consente di amplificare un messaggio importante.